Amici, ho portato avanti di poco il gioco ed è successo, è morto, è morto, c'è un Lancaster sul suono austriaco. Scusate, sì, scusate un momento. Allora, rieccoci qua, sapete questo che cosa vuol dire? Che posso dichiarare guerra a lei e praticamente... Posso riprendermi le province francesi, che sono un col francese. E togliere anche un po' di border goal, già che ci sono. Allora, visto che... Senti, allora, io qua quanto guadagno? Due all'anno... 0,63 all'anno... Senti, se... Se io la cedessi... Senti, c'è qualcosa che mi dà... No, le tasse, non la cultura... Aspetta, National Tax Modifier. Tassazione. Quattordici e tredici più il dieci per cento. Per quanti anni? Per... Dieci anni. Quindi avrei un bel... Più... Più... Più venti... Una volta che si toglie... Senti, facciamo questo. Senti, facciamo questo. Ok, allora... Tasse... Allora, e vediamo di quanto aumenta. Oh! Buono... Ho un portaggio tutti? No... Oh! E annuncia l'Ausia come rivale! Saluti! Arstua! Sei interessata? Uh! E' interessata? Li do questa. La Franca Contea. Allora, vediamo un pochino. Quanto costa? Un... Un... No, molto. Undici. Lui. Empissimo! O... Allora, sti! perché? ho già il free per cento ah perché blocco Roma e Tarracina c'è? no 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 Grazie. Andiamo a proteggere il territorio. Ma anche no. Allora. Allora. Ripaga debito. Aumentiamo un pochino la velocità. Non è che mi imposti molto. Non è che mi imposti molto. Oh cavolo. Oh cavolo. Allora. 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 Se metto fuori combattimento lo stato pontificio se ne vanno via quasi più di 16.000 truppe. Allora. Bravo. Manda quei Q40 a sfragassare tutto e tutti. Ottimo. Oh. 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 Che rottura. I ribelli cattolici. Cattolici. Grazie. Cattolici. Dicardo. Oh. Dicardo. Egliamo. 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 Nel 62 Contro chi? Ah, insulto di diplomatico Integra Scusa, eh Influence Ideas Religious Ideas In sé Occupato da Mantua Ok Ripaga No Un Ass Continue Continue 50 punti diplomatici a gratis aspetta no le hanno liberate ok oh grazie questa va a te Francia Francia vai qui oh bene o male senta senti quasi 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 metto il papa lo umilio per bene 3 4 1 almeno è un buon diplomatico nostra provincia anglicana due ficilie due ficilie no allora Francia vediamo qui qui Herren Occupata dalle due Sicilie. Ah, allora, bravo, Occupato A, questa è francese, senti, chi altro sta ben inguaiato? Senti, no, questo è due Sicilie, senti, lo Stato Pontificio va a quel paese e mi paga anche le riparazioni di guerra, no, allora. Senti, allora, c'è Pillage, Sicilian Wasser, ah, peccato. Allora, vediamo un pochino. Allora. 24 punti, una provincia. Palmazia, no, ecco. Allora. 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 No. Che rottura che devi tornare proprio nel tuo territorio, nemmeno quello degli alleati. Lancia occupa qui. Allora. 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 alla fine, adoro ancora... Allora. citizen debolezioni è appunto. Come dependiamo? No, dico, ah, 13. Ah, sta... Solo una tecca avanti. Dovetto che, ecco, ricerca non bilanciata. Che errore enorme, rottura di scatole, io odio questi ribelli, ricerca amministrativa a livello 15 per la marcia forzata. Ok, allora, senti, allora, l'ausia, con chi si è messa l'ausia? Con nessuno, sembra. Sede dominante. Però, se vincessero i protestanti... ... 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 allora vediamo un pochino posso pagare due debiti e e si è riconvertito il cattolice che provincia è? anglicana allora vediamo un pochino ah è ottimo Franca Contera Ausia allora Francia Ausia questo e questo allora chi rompe? allora Charles Rode è francese questo è francese mmm Charles Rode allora uh potrei avere tutto questo scusa contro allora Brabant mi prendo tutti i soldi e gli saccheggio la capitale bene contro tre viri eh soldi no non ho niente contro lei Charles Rode eh contro la svizzera va bene mi va bene lo stesso oh io intanto torno dal mio leale vassallo e Francia eh posso ripagarti il debito di 300 sì allora avrebbe il 59% però mi aspetta quanto gli pago 4 scusa perché c'è un Von Ersburg mi sembra strano è buono con la fortuna che c'è in sto gioco muore subito e quindi beh eh ci salutiamo quando faccio fuori questi bei ribelli trust 64 trust are they willing trust come what favori oh bene ah milano con quest casus belli oh e quindi ci salutiamo ciao ciao Grazie a tutti.